Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo breve video. Qualche giorno fa ho pubblicato sul canale la recensione di uno speaker della MiPau. Se avete perso questa recensione la trovate qui. Il rappresentante che ho contattato di MiPau che mi ha dato la possibilità di recensire questo speaker mi ha dato adesso la possibilità di condividere con voi degli sconti davvero importanti. Si tratta infatti del 50% di sconto su una serie limitata di prodotti. Dunque nella descrizione del video trovate la lista di prodotti dove ogni prodotto associato al codice sconto che ci permetterà appunto di risparmiare il 50% sul prezzo di acquisto di Amazon di questo prodotto. I dispositivi scontati sono tra i più disparati. Ci sono mouse, ci sono led, ci sono dispositivi android da collegare al televisore e prendere il televisore smart. Purtroppo sì, gli sconti scaderanno il 15 febbraio dunque se volete fare acquisti i link sono nella descrizione e fateli prima di questa data. Il video lo faccio soltanto adesso perché la mail l'ho ricevuta ieri mattina ma ieri avevo un esame in università per cui ero assolutamente impossibilitato a fare il video e comunque a partire da oggi avete una settimana per comprare i prodotti se siete interessati. Dunque la lista è in descrizione, spero di esservi stato utile, questo breve video finisce qui, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!